Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Miniterri e eccoci qui per un episodio di Europa Nella Stata di Squartro di DC Winds of Change Ci sono qui tornati col cara Bohemia pronti a continuare l'avventura di Ero Siamo pronti a fare l'ennesima guerra, te lo ricordi, stavolta per eliminare e quindi ottenere tutta la Pomerania Nel scorso episodio però abbiamo già fatto guerra all'Austria e abbiamo messo a tagliarla Ma per l'errore mio, con tutta la missione che riguardava l'ottenere in l'Austria Alta e l'Austria Bassa Non per essere solo 6, 4 su 6 nei territori che erano concessi, purtroppo è l'errore mio Comunque, vedendo di farlo a questi qua, ovviamente la creazione morale dovrebbe essere il pieno finale di questa Bohemia Sta di fatto che però ora siamo pronti a fare il Pomerania Heritage, mi piace tutta la Pomerania Questa è buona, perché se noi rilasciamo la Prussia avremmo un vassallo estremamente potente militarmente Utile per regolare la Prussia a tutti noi, visto che questo no lo potremmo anche conquistarcelo Vediamo Comunque, iniziamo il video di oggi, ma prima di iniziare vi ricordo sempre di lasciare like e commentare e condividere Su potete essere del canale, vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social con Facebook, Discord, Instagram e TikTok Così per sapere di più sul lavoro, con dei vi altri contenuti in ulteriori offerti e partecipare per attivare al canale community Sondaggi, richieste, discussioni In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonare a mi tra i video di YouTube Apparare in margine o pannelli, sovettire, vantaggi, a cui il badge emoji, i video per te l'anteprima Ma anche se ne ridicate abbonati e quant'altro La possibilità di supportare il lavoro tramite i movimenti di Twitch Ci sono andati a fare like su YouTube e su YouTube in contemporanea Quindi domani per seguirmi, domani per supportarmi la forza e polette Bene, inizia la stagione di oggi Io sperisco, come sempre, vando le ciance e chi vi piace A benizi Bene Pronti a fare la guerra Alla Sono ricordi che ho avuto problemi con Una guerra con Lubekka Che però dopo andremo a combattere Io ho provato a creare Livoni, ma non chiedo a nessuno I miei versali basteranno, sinceramente Obiettivo per prendere Rulm Anzi Kulm No, andiamo su Tuker va, direttamente PS Sarà che non c'è un Kulm Comunque Conferma E si va Partiamo Uno Due Parti di invasione in contemporanea Tre Tre Quarto Andiamo a fare lo scappo ovviamente Abbiamo un altro G militare che possiamo sbloccare la meno cinque Così come quella Amministrativa Ci sblocca una nuova idea C'è una rivolta dove esattamente Se posso chiedere Ah, adesso sto qui A direttori Eh, della Pressburg Che mi interessa tantissimo Farla espandere e crescere Va bene Posso uscire una nuova idea E io andrei a questo punto Su Militari Che siamo avanti militarmente Nella tecnologia Mentre Un po' di qualità Sinceramente nel mio senso Mi servirebbe Più che altro Più che quantità Qualità Fondo Sì Sì Che migliora In fronte Comodabilità E Quale Comodabilità Quindi migliora Stare la calderia Che è Infanteria Siege E Artiglieria In finale E infine Un po' di disciplina Non è male Quindi Andiamo su Quality Yes E Blocando la tecnologia Poi potremmo anche Puntare E Vicino Potremmo puntare a fare La legittima sì Il bonus Della marchia elettiva Che è molto importante Sennò me In questo momento Comunque Se rivolto Ci veniamo insieme Ungheresi Spero che ci vadino Ungheresi No Non ci vanno Ok Già qui Preso tutto Andiamo sulla capitale Ce li fanno tutti Ok Facciamo fuori La livonia E noi c'è però Un territorio Dalla lituania Così che Sì C'è Tonigoldi Nella Colleation Ma non ci interessa C'è La dare i soldi Warrap Ok Ci dà un po' di Che volevamo Il break Cosa c'ha Militri access Che non ci interessa Quindi Send demand E Diciamo Ciao Livonia Nord E Stettino Come è messo Stettino è messo Male Dai Settile Vedete Dalla l'epa Scatoli Ah Che scatole Qui c'è Tutto Oh Stettino No Stettino non è caduta Se rossi chiedere Tutto al Tony Gordon Avemmo noi Brandeburgo Lans Lanslut Saxony Stettino Sarisburg E Regesburg 5 stati 6 stati In collezione Però Stettino è In tregua E Brandeburgo Cioè Vediamo se Non ci rompe una scatola E poi Cosa cosa E Siamo potentissimi Però Avete che la collezione È sempre un problema A volte Non so mai Chi possa entrare Non so mai Chi possa entrare Qui cade Che fa Batte lei Batta Non ti elimino I ribelli Al brandeburgo Che Mi no Se ora Non mi ama Vuoi tornare a casa Va Dacci i soldi Va Voi andate A liberare No Senta Fraga È morto Il Vice Diplomatico Così Questa Costa La metà Diplomatico Protection Yes Se stettino Cade Finisce anche Questa guerra Anche se Totonicod C'è già Il 100% Quindi Totonicod Ormai Non ne può più Resistere Non voglio Questo territorio Grazie Allora Mi sono soldi Se in demand È Perfetto A questo punto Noi poteri Riesce Prush No Sì Perfetto Decisione Qui restò Cacciolo Kralovec Che Sviluppo 25 Abbiamo No Cosa Provenza Bordini De Baltic Sia S Mord Evolvent De Claccio 9 Qua sono a 13 9 Eh Dobbiamo farse Cacciolo In pratica Ok Si può fare Un po' di punti Qua Gli puttiamo Va Vediamo un po' Cosa c'era Intanto facciamo Corso Tutto Nel frattempo Possiamo anche Rilasciare la Prussia In teoria E noi Potremmo Rivolte Dove Io Lubeck Posso fare Guerre per Rilasciare Territori Per E così Anche Imperatori Quindi Entri Vanburg Goldenburg Rugen Riga E Bremen Io chiamo Tutti i miei Alleati Qual è La forza Dell'imperatore Vismar Si Vismar Forse Più Piscino No Rostock Lünenburg Tutti e due Lünenburg E qui Dai Conferma E si va Lünenburg Ragazzi Facciamo questo Per il bene Del nostro Paese Mentre qui Come andiamo Con Adesso 25 Cacciolo Quindi Dovo sviluppare Davvero Davvero Tanto Posso anche Un po' Aspettare Va Dove ci attaccano Ecco I maledetti Io lo sto Io già sto qui Quindi Niente da fa Va bene Vi suggeriamo La Prusse E la Lübe Che sono alleate E poi ci dedicheremo A rilasciare Tutti i nostri Assalli Per condividere Più punti Imperati Perché Non solo Che c'è L'imperatore Perché L'imperatore Dipende Molto Dagli equilibri Vedete qui Historic Centro Praga Più 10 L'imperatore Perché Ripunisce Non sono sotto Il nostro Controllo Se io Faccio così Non cambia Niente Ok Però Intanto Vedete qui Molte cose Dipendono Dall'imperatore Che c'è Dall'equilibrio Che c'è All'interno Dell'impero Eh sì Certo Colonia Tu vuoi Prendere dei tori Tu vuoi Fregare me Certo Tu vuoi Fregare me Come permette Allora Rilasciare L'unenburg Saks L'unenburg Ok E E così Così Dovevi fare Facendo questo Guardi un bel po' Di punti Quindi Continuiamo Andarò Su Lubeck Non posso andarci E andiamo a piccare I lubecchiani Se li becchiamo No Non riusciamo a beccarli Neanche riusciamo a passare Con i litori qui Benissimo Soprattutto andiamo a piccare I solleati Ah c'è qui il forte Perché non posso andare Cioè Potrò questo forte Dove andare qui Zone control Ma Cioè Questo no Questo Cioè Questi qua Vuol dire che mi bloccano Dai No ci va Ci andava forse Aspetta Eh Andiamo ad Hamburgo Scusa Hamburgo Eh Raga è tutto La città Forse non ho sei punti militari Ma Voglio un po' sbligare Tedeum Più stabilità Non ho punti Inventare la stabilità Io Quindi va bene così Va bene così Il Tedeum Mi va più che bene Gorizia Rivolta Qui c'è Due armate Mia Ho solo Ah c'è Bur La Bordogna Ok No andiamo a Gorizia Va Mi ha sedato Qui basteranno Per battere Tutti gli altri Per l'interno Venzo della fede Ho tenuto a Frankfurt Questo privilegio Ora Andiamo a fare pace Già con le prime Andiamo a togliere Inca sono delle Irregolarità Eh Loro non hanno niente Da rilasciare Va bene A questo punto Solo soldi Per aver scomodato L'imperatore Warrep E Sandy Mare Easy peasy Bene Andiamo al prossimo Hamburg Che poi è caduta Shoe for peace Revisi Warjet Voi se non lo vince Non avete niente Warrep Soldi E Sandy Mare Il minimo Il giusto Che devono dare Per averli subito L'imperatore In queste Rivolte Intanto questi qua Stanno andando via Oh via via Di pire Ma sono a forte Ok Lasciamoli morire Va Qui Auticore Bene Sarà che mi dà più Le costruzioni Non capisco Mi dà più Segnere le costruzioni Fa un po' di così qua Che sono materie Importanti La stazione Non c'è più Di tanto Trade Vladislav Tudori Deve essere Non so C'è di commercio Ok Però Ma questo sì Va bene Qui c'è un salmio alleato A sconfiggere I rivoltosi Altra pace Che si può fare Con Riga O la riga Ma tu ti potrei conquistare No no Non mi come me Che è troppo distante Non Non può Non posso fare Questa pace Diciamo Tra 3 power Soldini Send demand Let's go Let's go Bene Manca solo poche città Manca solo Rugen Che sarà intoccabile Sicuramente C'erano sono Tutte over Ok C'è di posto la pace Allora facciamo una cosa Un rap medai Soldi medai E Possiamo fargli fare Direi niente Direi niente Send demand Oh Vediamo un po' Scirare qui Le punti Impare Liberation Noi Vabbiamo Sotto Ok Poi sciriamo Dato un po' Di punti Siamo a 40 Wow Bene 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 Siamo a 40 Qui c'è Protet E Game Store Oh Buono Buono Sblocchiamo Il game Sulla Turchia Sulla Sugli ottomani Avendo dei payment Claim Sul Bulgaria Sirista Carpazia E Balcanici Ragazzi Vedate qui Che bello Ah I payment Claim In questo momento Gli ottomani Sono un pochetto Ah sono in guerra Con la Crimea Ma sapete che Una guerra Gli ottomani Così per espandere Un po' La boemia Ci starebbe Tantissimo E Contest claim No sono Prem e in claim No Allora Intanto qui Dal mazio Vorrei Vassalizzare Se Puede Improved Ration Improved Ration Assolutamente Va bene E il dal mazio Sia La mia armata Lascia Andiamo Verso Perché se sono in Crimea Sono un po' bloccati Potrebbe Magari Territore Qui Nituania Per avere più Punti In Crimea E anche Rilasciare Vidim Quindi alla Bulgaria E In caso Non so Qua che ci sta Qua Serbia Qua c'è loro però Qua c'è loro La voglio io Cosovo Eh si potrebbe fare Una guerrisciola Eh Si potrebbe fare Quindi In questo momento Io sono in molte difficoltà E se dedicato Guerra Allora Tutti Vedate che vi vengono Tutti Tutti Venirebbero Cioè proprio Perfetto La persa non entra La persa Se è formata Ed è bella grande Sarebbe una bella minaccia Anche perché Anche se non è grande Ti porta punti morale E' eccessivamente alti Per questo periodo qui Quindi E' buono Cosa Eh Potrei andare A spuntare Kosovo Posso prendere Kosovo Si Kosovo Perché Perché parlo russo Mi piace Adesso Andiamo verso Kosovo E Revenge Nicopolis Provincia In area Bulgaria Dove essere Provincia In Bulgaria E Silistria E Attenzione Non deve avere Territory In Balcani Quindi Dove Cacciare La mente Le Balcani Non sarà Facile Da conto In Europa In pratica 50 prestigio Ottimo Ho aumentato Anche un po' Di Legittimacy Che non fa mai male Proprio I soldi Gli diamo Un pochetto Siamo Arrivati Non sono ancora In guerra Si Hanno 51.000 Forza 5.000 Ma in palo Davvero Deboli Proprio Mai visto Così Debole La Kosova E che Abbiamo Io non Chiamare Così Nessuno Non lo so Forse Solo La Borgogna Perché Non è Interessi Qui O Il Papa State Tanto A dire C'è Il Papa Che Ci dà Magari Qualche Bonus Chiamare Il Papa Confermiamo Guerra Santa Qui Potremmo Avere Anche Un po' Di Morale Prestigio Morale Ma in pari Come Speed Non ci serve Soprano Una guerra Abbastanza Semplice E potremmo Anche Chiamare I nostri Alleati Quindi Dividiamo Qui Le forze Guardate Qui Guardate Qui Ecco 16.000 Ci mettiamo In generale Che è buono Per gli assedi No Non ha Assedi Ma c'è una cosa C'è con gli assedi E nessuno Ha gli assedi Nel nostro generale Incredibile È Incredibile Comunque Guerra La Dottomani Contro Ormus E Karaman Sarà brutto Togli Ormus Perché è Molto distante Quindi Andiamo Se c'è Poi Da Questa Guerra L'isodio La Borgogna L'isodio La Borgogna Qui iniziano A conquistare Tutti i dettori Che vogliamo Qui il forte Ci mancano I cannoni Chi ha cannoni In più Due cannoni Immagina che Troveri i cannoni Immagina Perché non vai A Kosovo Allora ragazzi Che belle notizie Delle Milanese Succession Minas As falling Into Political Scales The throne Is vacant And the Upstep Repubblic Streets Invent To establish Order By Imperial The title Of Dutch How To pass To The Emperor Himself Where The La Dutch Is Extingu Non Per Non Per Non Per E Per Imperatori In Generale If we Wish To Impress Dice Che è Una Legge Imperiale Perché Quando si Stingue Il Ducato Il Duca La Solina Di Sangue E C'è Confusione Possiamo Avere Un Casus Belli Su Milano The Trump Belong To Us Direi Che Più Che Giusto Soprattutto Dobbiamo Cercare Di Avere Un Per Di Cinque Anni Quindi Nel 21 Dobbiamo Fare Questa Guerra Io Farò Una Linea Che Mi Porta Però Trentino In Trentino Attendo Così Che Poi Venezia È solo Qui Venezia Non Ci Credo Venezia È solo Qui Non Ci Credo I Can't Believe It Non Ci Posso Credere Intanto Non Qui Hai Visto Che Hanno Distrutto I Nostre Alleati Vanno Da Soli Sparsi Attacca Costantino Per Tenet L'ho Viste Che Sono Dei Ribelli C'è Quattro Ribelli Potremmo Unire Queste Truppe Se Cade La Città Di Ragusa Se Cadesse Ragusa Magari Ci Farebbe Un Favore E 18 18 18 Truppe Anche Una Ottima Flotta Devo Dire Allora Quarto Tier Quanta Regione Per Nostro Governo Io Ora Vado A Provare Questi Qua Che L'ho Pato In Una Spida Che Ho Fatto Il Spida Con Parma Perché Questi Qua Ci Dà Per Ogni Regione In C'è Una Chiesa O Un Tempio 3% Di Local Tax Modify E In Più Local Rest Meno 2 Quindi Oltre C'è Una Chiesa Oltre Ci Dà Anche Più Soldi Dalle Tasse Ma Anche A Sto Tempo Un Arrest Che Insomma È Di 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 Insieme Alle Nostre Truppe Se Ci Se 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 Non Ci Se 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 I Cari Vassalli Tutti A Se 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 Supporti Ok Così Che Cerchiamo Di Sere Uniti Perché Andare Così A Sediare Non Mi Piace Se No Poi Non Sopera Base Da Solo Punta Gli Ottomani C'è Questo Il Kosovo Che Rivolgo 11% Per le Guerre Rivolta Dove Tormus Che Arriva Qui Con Il Valet Vale A Picchiare Dai Su Brava Lituania Orgogliosi No Ma Che Perché Non Black Flag Ah Sono I Russi Quelli Maledetti Maledetti Uh Scappa 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 Intanto Si Pasterizza Anche La Dalmazia Che Avremo Altri Claim Su Spalato Quindi Anche se Non sono Eterni Quelli Guardanti I Balcani Possibilità Però Deve Non si Vassarli Che Rilasceremo Anche se Per ora Siamo A più Due Qualcuno Devo O Lasciarlo Devo Annetterlo Mi Sembra Che La Bohemia Poteva Annettere Fino Al 1528 E Dov'è 1521 Mentre La Polonia È 6 Quindi Faremo Se Prima Polonia Lituania Che Ungheria Ragusa Finalmente È Caduta E Ora Cercare Di Unirci Con Se Truppe Nostri Alleati E Andar Fagimare Ai Maledetti Ottomani Aspetta Che Ci Seguano Ok Siamo Molto Pari Di Numero Ci Fregano Perché Sono 50 Mila Se Sono Di Più Ok Sono 44 Mila Abbiamo Perso Ok Abbiamo Perso Molti Più Di Loro Molto Più Però Non Abbiamo Molto Più Manpower Loro No In Ottomani Ora Inizia A Perdere Se Mi Truppe Ma Dove I Mercenari E Mi Sa Che Chiamo Un Po Di Alleati Così Facciamo Un Po Di Casino Ragazzi Facciamo Un Po Di Casino E Basta Distruggiamo Questi Ottomani Che I Ma La Pace La Voglio Fare Con Calma Pensate Come Posso Fare Un'ottima Pace Per Sia Da Fastidio Agli Ottomani Ma Nel Sto Tempo Cercano Di Non Debogli Troppo Sennò Poi Arrivano I Mamelucchi Che Se ne Approfitto In questo Momento I Mamelucchi Ci Vogliono Bene Ci Vorrebbe Anche Un'allenanza In Che Ci Danno Loro A Noi Ci Estudio Ottomani Anche Se Però Apprecato Tutti I miei Alleati Non c'è Stava Niente Da Per Loro Perché Prima Erano Divisi Ma E Anche Divisi Occupavano Molto Più Il Territorio C'era Più Eserci Quindi C'era Più Possibilità Di Essere Non Dico Vicini Ma Quasi Detto Questo Vedete Qui I Balcani Sono Tutti Già Occupati La Anche Che Intorno Assallo E Visto Che Nostro Assallo Potremmo Anche Tenercelo C'è Ragusa Un centro Molto Importante Ecco Tutte Queste Conquiste Potremmo Anche Una Plotta Molto Grande C'è Anche Una Sperazione Lituani Dove Scusami Dove Sono Lituani I Nostri Stanno Addirittura Qui Visto Sono Lituani Eh Eh Vabbè Ragazzi A questo punto Andrei 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 Lì Andrei Con Mio Esercito Ci Buon anno Quindi Andremo Qui A Kralovec Che Basta Danzica Penso No Danzica Sì E Danzica Perché C'è Gem Danzica È Qui Questo È Konisberg La Roccia Del Sovrano Qui Dove C'è Ora In Queste Poi C'è La Russica Questo Delo Qui Un Enclave In Pratica Ma Comunque Ragazzi Io Spero Che Il Video Vi Sia Preciuto In La Cosa Vi Lascia Un Like A Commentare Di La Vostra In Come De Is 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 Canale Per Le Can Le Cosa C'è Un Prossimo Episodio Per S4 Sicuramente Faremo Pieno Questa Guerra Ma Devo Cercare Anche Di Capire Come Fa Con Milano Abbiamo Una Bella Abbiamo Una Bellissima Così La Rational Union Possiamo Anche Pigliarci Milano Ragazzi Ma Piena Come Pensare A Integrare Questi Birbanti Mancano Cinque Anni Insomma Ci Integra Queste Due L'abbiamo Sera Così Potente Che Piglia Tutta Questa Ragione Qui E L'Ungheria Anche Nostra Tutto Questo Noi Abbiamo Un controllo Sulla Mita Europea Davvero Straordinario Insomma Anche Imperatori E Penso Che Prendiamo Davvero Arrivare A Un Buon Punto Comunque Asbro Con I Rapporti Così Vabbè Ragazzi C'era Un Prossimo Episodio Da Prossimo Terry Passo E chiudo